Uno cerca di lavorare apposta per questo, nel senso che quando si riceve un complimento e si sente la stima un po' in generale, sono soddisfazioni. Penso di essere riuscito a trasmettere il giusto e a far vedere anche all'esterno quello che sono io, quello che è la mia persona e quello che sono io in campo, quindi sono soddisfatto di questo. Sono stati, come dicevo prima, dei momenti difficili, dei momenti in cui i riferimenti e comunque la situazione era poco chiara, nel senso che è stato tutto un po' all'improvviso, quindi non sapevi bene cosa poteva succedere. Quindi sicuramente sono stati dei momenti difficili in cui però bisognava tenere duro, bisognava compattarsi insieme e cercare di non far sbriciolare il tutto. Non è stato facile perché comunque il momento di dicembre è stato difficile anche dal punto di vista dei risultati, è stato difficile anche per quanto riguarda proprio il campo. Quindi lì bisognava essere bravi a rimanere compatti, a pensare comunque che c'era un obiettivo che noi dovevamo portare a casa e che quindi in tutti i modi possibili noi dovevamo essere bravi a isolarci e andare avanti. Poi pian piano le cose sono migliorate e noi siamo stati bravi ad andare avanti e anche a correggerci un po' di cose, a riuscire poi a trovare un po' più di continuità nei risultati e a dare un po' lo strappo finale nelle ultime dieci partite. Per raggiungere qualsiasi obiettivo penso che gli ingredienti sono sempre gli stessi, poi è normale che il poter lottare per vincere un campionato è sicuramente bello, perché come dicevo prima il ramarico di non aver fatto qualcosa in più c'è perché poi dopo quando tu finisci e vedi che gli altri comunque possono giocarsi playoff e possono giocarsi partite belle, perché sono sempre partite belle quelle, un po' di invidia, diciamo così ce l'hai, perché comunque vai a giocarti delle partite belle che per un giocatore sono i momenti più belli. Quest'anno il lavoro del mister e il capire il suo calcio mi ha migliorato molto, mi ha fatto scoprire anche un lato del calcio che magari io ho avuto negli anni passati un po' meno confidenza, nel senso che nel possesso palla quest'anno mi ha servito molto per completarmi come giocatore, quindi penso che per me sia stato un anno importante in questo senso. Grazie a tutti.